allora pdp by dv della serie platinum quindi made in messico 14x5 è un laguer classico rosso tube lugs tiranti true pitch modello nuovo del tendi cordiera in questi test sui rullanti li terremo tutti accordati allo stesso modo circa 80 del tavolo e nello stesso ambiente per avere quindi un confronto reale tra i tuoni dei vari rullanti